Ancora un grande risultato per il Valle Soverato perché è arrivato nell'ultimo turno della pool promozione con Ravenna, è arrivato il sigillo definitivo all'ingresso nei playoff. Un risultato prestigioso conquistato soprattutto considerando il roster giovanissimo allestito quest'anno, quindi grande soddisfazione non solo per il presidente Matozzo ma credo per tutta la società e lo staff. Hai detto perfettamente quello che io ho sempre pensato in quest'ultimo periodo dicendo che abbiamo allestito una squadra di persone giovani, del resto ieri a Palmi hanno giocato tutti, hai giocato già da Barbieri, 18, 19, 20 anni e abbiamo fatto sicuramente un bel campionato. Di questo io ne sono orgoglioso, faccio i complimenti alle ragazze che si sono impegnate tutte e che sicuramente di queste ragazze sentiremo parlare anche il prossimo anno perché sono ben viste anche da società di Serie 1. Ma io penso che di averle trattate bene, penso che quello che hanno fatto è superato con un allenatore che ci ha tenuto ad avere una squadra così giovane, penso che dovrebbero, se noi dovessimo decidere di fare ancora un'altra volta un campionato di Serie A, dovremmo tenerle perché su questa interdittura si può fare bene anche il prossimo anno. Partiti, se possiamo dire così, affari spenti quest'anno, invece questa squadra gradualmente con tanto lavoro si è guadagnata la stima di tutta la Serie A2, ha dimostrato di meritare sul campo questo quinto posto e questo accesso ai play-off, ma non c'è tempo per rifiatare perché praticamente mercoledì iniziano subito i quarti di finale dei play-off, gara d'andata in trasferta perché il Soverato è arrivato quinto, affronterà la sesta classificata che è la Volalto Caserta, una squadra che all'inizio del campionato era stata sicuramente allestita per disputare un campionato di vertici, che ha avuto delle difficoltà ma che alla fine nel girone di ritorno della pool promozione ha fatto valere la sua qualità ed è riuscita ad entrare in questa post-season. Sarà un impegno direi difficile ma allo stesso tempo stimolante per queste giovani ragazze che a questo punto non avranno nulla da perdere. Guarda Pietro, io le ho sentite anche stamattina uno per uno e ho detto avete fatto un campionato che la società voleva, adesso giocatevi questi play-off per voi, per il vostro futuro, per quelle che sono le vostre ambizioni, se avete voglia di fare bene e di stare a pallavolo avete l'opportunità di dimostrare quanto valete. Andiamo a giocare a Caserta, sicuramente affronteremo una squadra di prestigio con un personaggio in nome di grande valore, noi ce la giochiamo fino in fondo, abbiamo già battuto in casa loro nel girone di andata, abbiamo preso poi in casa, è una squadra sicuramente che dirà la sua anche in questi play-off. Noi vogliamo andare a Caserta a fare bene, ci siamo già tuffati, stiamo preparando, anzi abbiamo già preparato la trasferta, si parte domani alle 14 per Caserta, si arriva, si dorme, ospite con scambio di ospitalità con Caserta, con la quale società abbiamo rapporti ottimali di amicizia e poi alle 8.30 affronteremo questa partita, mi auguro che le ragazze per come hanno detto ci tengono a fare bella figura e perché no, sognare non è mica peccato. Coach Napolitano è arrivato un primo importantissimo traguardo per il Vole Soverato, accesso ai play-off, quinto posto al termine della pool promozione di A2, sicuramente un grande risultato per la sua giovanissima squadra ma non c'è tempo di rifiatare perché ci si deve tuffare subito nei quarti di finale dei play-off perché mercoledì si parte con la gara di andata, il Soverato avrà di fronte Caserta, una squadra ostica, esperta, di qualità che era stata costruita per disputare un campionato di vertice ma sarà, direi, una sfida al contempo molto stimolante per la sua squadra. Ma guarda, per il momento diciamo ci godiamo questo splendido risultato che non è solo l'accesso di play-off che, insomma, all'inizio anno non ci accreditavano per questo risultato, per questo obiettivo ma più che altro ci godiamo il quinto posto in un girone a 18 squadre, primi diciamo nel nostro girone, quindi quello che era la pool B e ancora di più dal mio punto di vista ci godiamo comunque due cose, la prima è una squadra che secondo me dal 27 di agosto, il giorno in cui abbiamo cominciato, il 28, si è evoluta e ha in qualche modo veramente, si è trasformata, è riuscita in qualche modo a far vedere anche della buona palla a volo, dei miglioramenti che non sono solo dei miglioramenti individuali ma anche di squadre. La seconda cosa, proprio ricollegandomi a questo e faccio riferimento alla parte di ieri, è che alla fine andiamo a vincere contro Ravenna con giocatrici che fino adesso avevano giocato comunque molto poco ma che comunque durante l'allenamento erano state preziosissime in questo percorso di sviluppo ed è la cosa che in qualche misura più mi riempie di orgoglio perché questo significa che il materiale che si ha a disposizione deve essere utilizzato sempre tutto perché arriva il momento in cui anche queste ragazze che si impegnano durante la settimana possono veramente dire la loro. Una squadra che credo soprattutto negli ultimi due mesi a dispetto della giovane età sia maturata tanto a dispetto degli eventi perché prima il cambio di palazzetto gli infortuni che a ruota hanno colpito diverse atlete una squadra che però è riuscita a sopperire a questa avversità, ha confermato un grande quinto posto in pool promozione con l'accesso al playoff come dicevamo prima e quindi questo è indice anche di maturità di una squadra che nel corso dell'anno oltre ad essere cresciuta dal punto di vista tecnico e atletico sta maturando anche dal punto di vista della qualità, del carattere e dell'atteggiamento. Ma guarda io di questa situazione principalmente mi rammarico per quella che è la società nel senso che mi metto nei panni della società e mi rendo conto che gestire una situazione del genere è estremamente complicato è chiaro che poi si ripercuote anche sul gruppo giocatrici però così come ho detto questo è un gruppo giocatrici che fa parole di sé nel futuro perché ha grandi doti tecniche perché è questo che è quello che vuole fare nella vita e lavora duramente per questo ogni giorno. Dico anche che fondamentalmente all'interno di un processo di crescita in cui magari l'errore come dicevamo fa parte del processo di crescita ci stanno anche queste avversità e secondo me giocatrici di questo tipo devono non dico abituarsi ma avere la capacità di farne fronte a queste avversità perché se vogliono in qualche misura arrivare alla pallavolo che conta, arrivare in alto e di avversità come queste ne avranno tutti i giorni quindi credo che sia anche ancora di più laddove ce ne fosse bisogno anche questo un indice di come queste ragazze siano veramente ragazze come posso dire proiettate alla pallavolo di alto livello. Infine presentiamo anche dal punto di vista tecnico questo match di andata dei quarti di finale con Caserta che voi avete affrontato in regular season, una vittoria per parte, avete vinto voi in trasferta a Caserta e Caserta vinse qui 3-1 alla Palascoppa, una squadra che da allora forse è cambiata un po' anche per l'ingresso di una nuova opposta, una squadra che può vantare tanta qualità ed esperienza soprattutto. Ma sì, sarà una partita completamente diversa, già di loro i play-off sono di suo campionato a sé stante come qualcuno o qualche mio collega ha detto, adesso inizia una terza fase, non sarà facile affrontarla. Caserta è una squadra che alla lunga sta facendo venire fuori la sua esperienza laddove ovviamente non è assolutamente la squadra che ha cominciato il campionato se non fosse altro che ha cambiato allenatore e che soprattutto ha inserito un opposto di esperienza, di peso come Matoscova che ovviamente ha avuto solo un po' di tempo per rimettersi ecco in forma ma che adesso sta comunque raccogliendo e sta dando un grande contributo alla squadra. Non sarà una partita semplice, il nostro obiettivo è quello di arrivarci nelle migliori condizioni possibili da un punto di vista fisico. E' chiaro che la vittoria di ieri psicologicamente ci ha dato tanto perché è stata una bella vittoria contro Ravenna soprattutto contro Ravenna che non ha mollato mai e che ha lottato fino all'ultima palla quindi è stata una vittoria vera. E' chiaro che la componente mentale non basta ci vuole una componente tecnica, tattica, soprattutto fisica che in questo momento ecco dobbiamo valutare spero di arrivare alla partita di mercoledì sera nelle migliori condizioni possibili e quindi di giocarcela alla pari.